Bene ragazzi, benvenuti nuovamente ai live di EveryEye.it, anche questo dedicato a Dark Souls 2, nuovo action RPG firmato From Software e Namco Bandai. Diversamente dall'altro live gameplay che potete trovare sempre sulle pagine di EveryEye.it oppure su YouTube, questo è dedicato alle prime fasi di gioco. Quindi abbiamo iniziato veramente da pochi minuti, abbiamo creato il personaggio e abbiamo già avuto il tempo di morire una volta. Nell'altro video gameplay vi abbiamo fatto vedere le dinamiche di gioco legate a un personaggio che utilizza incantesimi e quindi a uno stregone sostanzialmente. Questa volta abbiamo deciso di fare un cavaliere, quindi magari vediamo appunto dinamiche più legate agli attacchi corpo a corpo e quindi all'approccio ravvicinato. Come sapete, se già avete visto l'altro video gameplay, questa è Majula, quindi è la città iniziale in cui poi tutto si svolge, cioè tutto comincia e diciamo la zona centrale in cui poi tutti gli NPC verranno raccolti e ci permetteranno di potenziarci. Il nostro personaggio non ha ancora un livello e questa è la prima volta che arriviamo a Majula. Non ci è ancora data la nostra fiaschetta Estus che forse ci verrà consegnata entro breve dalla Guardiana del Fuoco. Questa è la città, ci arriviamo in un momento in cui è molto molto desolata, quindi ci avviciniamo semplicemente al falò e lo accendiamo per riposare. Riposare al falò permette oltre che di viaggiare, come vedete qui l'opzione viaggia diversamente dal vecchio Dark Souls è disponibile fin da subito, anche di armonizzare incantesimi e recuperare anche la resistenza delle armi, perché qui le armi si consumano e si spezzano, vedete sotto la spada c'è una piccola barra rossa che ne indica la resistenza e ovviamente quindi anche con le classi legate alle classi di combattimento c'è bisogno di ritornare al falò per evitare che l'arma si rompa proprio nel bel mezzo di uno scontro e ci lascia sguarniti. Questa è la Guardiana del Fuoco, quindi intratteniamo le prime conversazioni e appunto lei ci dà la fiaschetta Estus. Come la fiaschetta Estus funziona sostanzialmente come la vecchia fiaschetta, quindi abbiamo... dove è andata a finire la fiaschetta? Eccola. La possiamo equipaggiare, però all'inizio è sostanzialmente molto debole, ha solo una carica, possiamo recuperare solo una volta i nostri punti feriti e poi dobbiamo utilizzare oggetti consumabili come queste gemme vitali che però scarseggiano. Nel corso della nostra avventura troveremo molto spesso alcuni... non molto spesso, troveremo alcuni frammenti di fiaschetta Estus. Uno ad esempio è qua. Dando questi frammenti di fiaschetta alla Guardiana potenziamo il nostro oggetto che ci permette poi per ogni frammento extra che aggiungiamo di avere una carica in più. La Guardiana ci permette, come sapete se avete visto l'altro live, anche di salire di livello. Quindi... Aspettate dunque. Ancora non possiamo salire di livello, vediamo se viaggiando sblocchiamo questa possibilità. Sì, adesso lei che è qua. Perfetto. Parlare con la Guardiana del Fuoco ci permette appunto di potenziare la fiaschetta consegnandole un frammento, ma anche di salire di livello. Non sappiamo se queste 580 anime che abbiamo raccolto possono bastare. Non bastano, ce ne vogliono un migliaio. Quindi noi ci addentriamo in quella che è la prima area da affrontare, la foresta dei guardiani caduti. Vediamo di procedere in maniera abbastanza spedita, nella speranza di farvi vedere, di avvicinarci almeno ad un boss. Come potete vedere il nostro personaggio è già diventato un non morto. Il sistema fra personaggi umani e personaggi non morti è molto simile concettualmente a quello del vecchio episodio, ovvero si parte da umani, una volta che si muore si ritorna su con questa cera non proprio eccezionale. Come potete vedere la nostra barra della vita, quella rossa in alto a sinistra, è stata intaccata. Tutte le volte che si muore si diventa sempre più vuoti, ci si avvicina ad essere un essere vuoto e quindi la barra della vita si svuota fino a raggiungere esattamente la metà. Ci sono delle effigi umane che possono essere comprate o trovate in giro per gli stage che ci permettono di tornare umani. Tornare umani ci garantisce non solo la possibilità di avere tutta la vita, ma anche quella di evocare NPC che possono combattere al nostro fianco, quindi si rivela, ecco questa è un'effigia umana che magari dopo utilizziamo così vi facciamo anche vedere come funziona. Quindi essere umani ha i suoi lati positivi, ovviamente le effigie umane si consumano e sono una merce abbastanza rara. Ora qua abbiamo visto che c'era un oggetto, quindi prima di affrontare i primi avversari vediamo di capire di che cosa si tratta. Osso del ritorno e anima di non morto perduto. L'osso del ritorno ci permette di tornare all'ultimo falò senza consumare anime, l'anima di non morto perduto semplicemente ci permette di guadagnare un po' di anime extra oltre a quelle che come adesso vediamo guadagniamo dall'uccisione dei nemici. Abbiamo preso un personaggio abbastanza ben dotato già di forza e destrezza, qua il cavaliere, quindi questo ci permette di procedere in maniera piuttosto spedita. L'altro gameplay che vi abbiamo fatto vedere era fatto con uno stregone. Lo stregone verso la fine del gioco diventa veramente potente, però all'inizio bisogna andarci veramente cauti, cioè non si può avanzare così rapidamente. Soprattutto perché non ha alti valori di stamina, non riesce, non avendo né forza né destrezza, non riesce a utilizzare al meglio le armi, i danni sono veramente pochi, quindi può darsi che qualche backstab riesca in effetti a uccidere gli avversari, ma sostanzialmente bisogna affidarci alle magie. All'inizio le magie sono semplicemente delle frecce dell'anima che si consumano anche piuttosto in fretta. Qua vediamo uno dei primi falò e direi che dal momento che abbiamo 930 anime potremo anche tornare a Majula e salire di un livello. Salire di un livello. Ovviamente riposandosi a Falò come succedeva esattamente nel vecchio Dark Souls, tornano tutti i nemici nell'area. La cosa importante però, come ho già spiegato, è che nell'altro live, i nemici qui dopo essere stati uccisi una decina di volte non tornano più nell'area. 948, quindi per salire di livello consumiamo adesso un'anima che abbiamo trovato, trovato, che ci dà 200, 200, vabbè 200 ci piace. Avanzamento di livello. Possiamo decidere di incrementare la vitalità che ci dà 30 punti vita, la forza o la destrezza, ma anche la tempra che aumenta l'equilibrio e l'energia, oppure il vigore è che aumenta il carico dell'equipaggiamento. È molto importante il vigore per un guerriero perché appunto tende a trovare armature abbastanza pesanti. Direi però che per iniziare facciamoci un livello di vitalità, tanto visto che procediamo abbastanza spediti. Scusate, ho togliato. Procediamo abbastanza spediti. Torniamo a viaggiare e quindi torniamo nella foresta, dei giganti caduti, e ci addentriamo un po' più all'interno. Ancora, come potete vedere, non abbiamo un equipaggiamento molto insomma... un equipaggiamento completo, ci manca lo scudo, ci manca anche un elmo. backstab. Voilà. Che sostanzialmente nei panni dei personaggi dediti al corpo a corpo significa quasi sempre un instant kill. Il sistema di lock non è dei migliori, devo dire la verità. Ogni tanto, ecco, si muore soprattutto nei panni del mago perché non si riesce... perché non si riesce a... attaccare, cioè... lockare il nemico nella maniera corretta. Abbiamo trovato un elmo, direi che potremmo anche mettercelo, anche se... Allora, ah, cappuccio dello straniero... no, l'elmo del fante vuoto è sicuramente migliore, migliora tutte le nostre caratteristiche. Quindi lo equipaggiamo e lo vediamo subito sulla testa del nostro protagonista non morto. bene, quella è stata un po' una leggerezza, potevo risparmiarmene di questi danni. spada dritta spezzata non penso che ci sia più utile. Questo sicuramente sale. E dall'alto ci stanno bersagliando con frecce. andiamo a ripulire quell'area, si va in questa zona, saliamo... non è facilissimo perché... adesso c'è una scalinata un po' stretta con un paio di nemici... potremmo morire malamente... no, per fortuna no... andando qua c'è un oggetto che vi consigliamo di prendere. Ah, troppo in anticipo la schivata. Questo che avete visto è il salto, è sempre molto rischioso perché se si sbagliano le misure... spada corta... allora... qua, fra l'altro, si potrebbe anche... no, la spada corta... ah, ci manca la destrezza, no? togliamola perché... perché non ha senso... perché questa è una spada larga e... ah, forza 11, destrezza 6, ok. come potete vedere tutte le armi... ah, ho pevuto una caschetta e non devo... come potete vedere tutte le armi hanno in basso non solo l'indicazione delle statistiche che servono per poterle utilizzare al meglio, ma anche quanto l'aumento di queste statistiche influisca poi sull'aumento del danno, quindi classi C e D, vuol dire che quest'arma spada larga che abbiamo viene influenzata maggiormente in maniera più consistente dalla forza e quindi dovete sempre stare attenti quando trovate delle nuove armi che non solo che di base abbiano delle statistiche interessanti, ma anche che corrispondano sostanzialmente a le qualità del vostro guerriero. mi si è detto... mi si dice che uccidendo questo eh... personaggio si trova uno spadone abbastanza interessante. saremo in grado di ucciderlo oppure... mh... ho come l'idea che adesso... vedrete la prima delle nostre morti. mh... si è girato... mh... si è girato... mh... si è girato... mh... si è girato... aiuto, morto... è stata una... leggerezza, vabbè, ma qui ci riarriviamo senza problemi... ora la nostra vita sarà un po' più... un po' più... bassa della precedente, perché tutte le volte che moriamo la nostra... la statistica, ecco, viene intaccata fino ad arrivare al massimo del malus, che è metà della vita integrale... della vita totale a disposizione dei punti vita. io non sono un granché con i personaggi... che combattono nel corpo a corpo, l'avete potuto notare... perché ho finito tutto il gioco con un personaggio... che utilizzava la magia... mi piacciono di più, sostanzialmente. però vediamo di non combinare disastri e andare un altro po' avanti. recuperiamo anzitutto le nostre anime... merce rare e preziosa... andiamo subito a prenderla come prima cosa. evitiamo di ritornare su e, anzi, ci addentriamo nella nebbia. come spesso sapete, dietro alla nebbia a volte si annidano dei boss... non è questo il caso, per fortuna. qua dietro sono sicuro che ci sia un oggetto... che non ci interessa... perché interessa all'arciere. diciamo, le classi sono... dunque... al di là della... di una buona varietà... vediamo intanto se... le armature e gli stivali che abbiamo trovati... ci... no, no, no... il falconiere è sempre migliore. al di là di una buona varietà di classi... semplicemente dedicate... all'attacco... attacco con due armi... insomma... c'è una buona... c'è un buon range di possibilità. eccoci... mi hanno messo in mezzo... vediamo se riusciamo a... non morire... vedete qui il sistema di lock... è un po' un attimo impazzito... direi che usiamo... una gemma vitale... per evitare... intanto siamo vicini a un falò... e quindi dovremmo riuscire poi anche a... spostarsi a Majula... e... salire nuovamente di livello. abbiamo trovato il nostro primo scudo... e lo utilizziamo subito... non puoi utilizzare questo scudo con le statistiche attuali... ci serve 13 di destrezza... e noi abbiamo... 8... eh... è un po'... oddio... cioè lo scudo si può utilizzare... non al massimo della sua efficacia... e quindi però... meglio di niente... direi... bene... qua c'è una porta da aprire... e c'è un falò... nonché un vendor... da cui possiamo comprare... non solo una chiave... che poi apre sostanzialmente... la bottega del fabbro... ma probabilmente... ecco... anche un po' di... eh... armi e armature... che però direi... che per il momento... ce ne stiamo con la nostra spada larga... ehm... torniamo... a Majula... saliamo di livello... e proseguiamo nella nostra... avventura... nei primi... passi... in Dark Souls 2... complessivamente... come già potete leggere... nella... review... o... potete vedere... nella video recensione... che trovate sulle pagine di Avriai... o sul nostro canale YouTube... a cui vi invitiamo ad... iscrivervi... dunque... riusciamo a salire di un livello solo... no... forse di due... utilizzando un'anima... incrementiamo... la destrezza... che ci serve... ci servirà... e... anche la forza... adesso... eh... utilizzo... come dicevo... come potete leggere... nel... dalla nostra... review... eh... il gioco io l'ho trovato... eh... è ovviamente... molto molto simile... al predecessore... ma... eh... il bilanciamento... secondo me... è molto migliore... sono spariti quasi del tutto... quei momenti di forte frustrazione... che in realtà... eh... c'erano un paio di momenti di smarrimento... secondo me... nel... nel primo... nel primo Dark Souls... che eh... 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 considerati... non come stimolanti... ma come... eh... appunto frustranti... quindi... mentre qui il bilanciamento... la progressione... eh... molto interessante... eh... eh... è sempre piacevole... e viene... non si avverte quasi mai... di essere stati... puniti... eh... per il solo gusto di... 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 insomma... per sadismo... ma... eh... si viene puniti perché si sbaglia... e... è facile sbagliare... questo è vero... ma... eh... insomma... è anche una delle... caratteristiche... ecco... è anche una delle caratteristiche che appunto contraddistinguono Dark Souls... cioè... è un titolo difficile... le persone... alle... i giocatori... hardcore e non hardcore... hanno dimostrato di apprezzare... qua c'è una porta che mi sa che è chiusa... sì... ci serve una chiave che troviamo via avanti... qua verremo... bersagliati e attaccati da tutti i fronti... quindi aspettiamo intanto che questo... non morto... si avvicini... vieni... 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 è riuscito comunque a farci male... c'è anche lui... possiamo sprecare una delle nostre cariche della fiaschetta Estus... per procedere... un po' più... eh... sicuri... no... non ce l'abbiamo fatta... dunque... io ve lo faccio vedere che cosa c'è qua sopra... però sarà un incontro traumatico... anzi... scenderò quasi subito... qua c'è la prima apparizione di quello che sarà uno dei boss un po' più difficilotti... portato in volo da questo uccellaccio... si chiama il persecutore e... ci uccide senza proprio... cioè sarebbe futile affrontarlo adesso... quindi... più volentieri... accettiamo che questo ci bombardi... non è che se n'è andato per caso... se n'è andato... bene... sperando che non torni... quello lo ritroviamo più avanti... ecco... ora non morto... come faccio io a raggiungerti? vai... scendi giù... che vengo anch'io... facciamoci inseguire... questo è armato di scudo e quindi dobbiamo... non è morto ancora... va bene... adesso si... bene... come potete vedere il guerriero... procede abbastanza speditamente... ma comunque si insomma... ora abbiamo finito le fiasche testus... quindi fra un po' ci toccherà tornare... al nostro falò... o forse magari riusciamo a sbloccarne un altro... qui dentro c'è un'imboscata tremenda... e avanti c'è un'altra imboscata tremenda... noi lo sappiamo... ve lo raccontiamo... non andate a dirlo in giro... qui c'è... un essere tartarugato... erano... quei due lassù eh... che ci buttavano della roba... facendo esplodere... un sacco di cose... mettendo a sincero rischio la nostra vita... vediamo... bene... ce la siamo cavata... adesso stiamo attenti a... ok... qua ci sono un altro paio di... di reiki... no... investiamo una gema vitale... l'abbiamo investita proprio male... più che altro ci ha investito lui... con delle... asciate nei denti... mmm... lassù ci sarebbe un oggetto... ma... ma... non penso sia... il caso... meno male ci siamo accorti di... di... di questo che si... eh... alzava... e invece siamo... arrivati sostanzialmente... alla... a una bella scorciatoia... perché da qua... dovremmo riuscire ad aprire... questa porta... che era chiusa dall'altra parte... che ci... eh... conduce... molto molto vicino... al falò... eh... siamo praticamente... in prossimità del primo boss... quindi... avete visto che... tutte le caratteristiche... del... primo Dark Souls... sono state mantenute... ovvero... la difficoltà elevata... c'è... ora... non... fate caso... eh... io stavo andando abbastanza spedito... anche perché... ho appunto finito il gioco... e... conoscevo un attimo... la disposizione dei nemici... le loro caratteristiche... le tempistiche d'attacco... bisogna però... sempre stare attenti... perché... basta la minima... il minimo sbaglio... e siamo finiti... eh... come vi dicevo... il titolo l'ho trovato... un po' più bilanciato... mi... secondo me hanno fatto un ottimo lavoro... avanziamo di livello... e... direi... o la vita... oppure di nuovo la forza... o la destrezza che ci servirà dopo... ma facciamo la forza... proviamo ad andare ad uccidere il boss... così ve lo faccio vedere... poi questo live... lo concludiamo qua... già che ci siamo... noi dovremmo riuscire... con... 800 più... 400... a passare ad un altro livello... e mettiamo la vita... bene... ancora non è che siamo ben equipaggiati... qua... qua dentro... in verità... c'è un... ehm... mercante... da cui eventualmente... è possibile comprare... dell'equipaggiamento migliore... ora... bisognerebbe mettersi a farmare... un po' di anime... ehm... non ci sembra... il caso... però... ecco... forse qua su... invece c'è qualcosa da... recuperare... vediamo... non mi ricordo proprio eh... frammento di titanite... se no... ci servirà dopo... semmai... per potenziare... eh... l'equipaggiamento... vi faccio vedere anche una cosa curiosa... eh... qua dentro... c'è una chiesa... poi una strada che porta a un'altra delle zone... delle prime zone in cui... eh... si può avanzare... qua dietro c'è un... una stele... che ci permette... di... stringendo il patto... di... eh... aderire al patto del vincitore... che sostanzialmente... aumenta... raddoppia... la difficoltà... del titolo... se siete masochisti... e ve la sentite... potrebbe essere una scelta... che vi da qualche brivido... non lo so... ehm... sappiate che... ecco... eh... nel corso del gioco... capita più e più volte di... nominare... e quasi mai... in vano... il dio dei videogiochi... ehm... diciamo... mettiamola così... eh... politically correct... adesso... vi faccio vedere il primo boss... e poi... con questo live... eh... la finiamo qua... spero di aver... ehm... di avervi fatto vedere un attimo... com'è il gameplay... quindi è un gameplay da action RPG... se volete sapere... un attimo lo schema dei controlli... con le frecce direzionali... si eh... cambia... l'equipaggiamento... cioè gli oggetti equipaggiati... si gira fra gli oggetti equipaggiati... quindi ad esempio... della feschetta estus... la gemma dell'anima... con i tasti dorsali... invece... si utilizzano gli oggetti... nella mano sinistra... e destra... ehm... è uno schema di controllo... che funziona... gli unici problemi... sono appunto legati... eh... eh... sono appunto legati... e questo... ci ha sostanzialmente... levato mezza vita... prima di arrivare al boss... quindi... eh... forse... forse... e dico forse... io penso... che... ehm... sarebbe meglio... tornare... vabbè dai... proviamoci... vi faccio vedere il boss... morirò... in una maniera indegna... è chiuso... la chiave ce la dà... eh... il boss... questa si chiama... foresta dei giganti... e questo è... il primo boss del gioco... l'ultimo gigante ancora trafitto da un altrettanto gigantesca spada... e noi saremo sostanzialmente causa della sua estinzione... dell'estinzione... di questa specie un tempo... che un tempo... eh... abitava nelle piane di Drangelic... o forse... anzi... quasi sicuramente sarà lui causa della nostra estinzione... vediamo quanto gli facciamo... è sicuramente lui causa della nostra estinzione... no... forse no... si... per fortuna è lento e ci permette di allontanarci... e curarci... eh... dunque... le routine comportamentali vanno... cioè le routine degli avversari... soprattutto dei boss... vanno studiate attentamente... eh... altrimenti si incappa in questi... eh... ecco... allontaniamoci... recuperiamo vigore... si è staccato un braccio e penso che... lo userà per colpirci in maniera... più convinta di prima... eh... pesta i piedi... noi li lasciamo festare i piedi... eh... quasi... quasi quasi... siamo morti schiacciati dal gigante... ci vogliamo riprovare? riproviamoci... siamo vicini... eh... non... non conoscevo bene le routine di... di questo boss... perché io l'ho affrontato... con... eh... un personaggio che utilizzava la magia... quindi sostanzialmente colpendolo... quasi sempre da lontano... ho come l'idea... che avventurarci in questa sfida... ora... sia un po' impari... probabilmente... avremo bisogno di un po' più di... tempo... per... affinare le nostre abilità... eh... migliorare insomma... le... le nostre statistiche... ma soprattutto... evitiamo questo... sgherro... e finiamoci subito... nella... battaglia... qui possiamo recuperare le nostre anime... non era una priorità... e fuggiamo... ahia... dunque... ci allontaniamo un attimo... utilizziamo la fiaschetta Estus... perché più o meno... con due colpi... ci uccide... no... troppo a fretta... vedete... aveva avuto fretta... e... purtroppo... il gioco... è spietato... è sempre meglio... allontanare... ora staccato il braccio... aumenta la potenza d'attacco... anche con i piedi... e... e ci prende... una volta... e per fortuna... la seconda... l'abbiamo schivata... uff... ecco ci ha preso lontani è caduto è caduto e si avvicina alla fine non dobbiamo aver fretta perché sennò rischiamo di di bene direi che quasi quasi ci siamo gigante vediamo un po' come te la cavi andato beh tutto sommato una sessione di gioco positiva come vedete ci ha dato un grosso quantitativo di anime più un'anima speciale questa l'anima dell'ultimo gigante che possiamo acquisire cioè consumare adesso per acquisire un grosso una grossa quantità di anime che ci servono per fisicamente per salire di livello eccoci ora c'è sempre lui che ci può uccidere non non ci dimentichiamo no è andato giù e con la chiave che ci ha regalato il gigante no non apriamo questa porta ne apriamo un'altra più su che ci porta diretti dal persecutore magari ve lo faccio vedere tanto ci metto pochi secondi a morire però prima saliamo un po' di livello torniamo a Majula saliamo di livello vi faccio vedere il persecutore che è quell'osco figuro che già avevamo incontrato prima e che da cui eravamo fuggiti consapevoli delle nostre infami debolezze io salgo di livello non sto a comprare equipaggiamento perché tanto insomma sarebbe un po' superfluo forse per l'obiettivo di questo live che non è certo quello di darvi una guida avanziamo di livello di 5 livelli possiamo avanzare quindi ci mettiamo un po' di vitalità un po' di destrezza un po' di forza e addirittura ancora direi carico equipaggiamento o tempra tempra sì ci piace con ritrovata fiducia avanziamo verso la morte il persecutore che ci darà la morte senza pietà senza nessuna pietà ci vogliono veramente pochi minuti per raggiungerlo devo dire che allora vi racconto un retroscena nel corso per finire questo titolo insomma molto spesso l'apporto della community sarà per voi che lo giocherete dopo l'uscita fondamentale noi giornalisti che lo abbiamo giocato prima dell'uscita non abbiamo potuto diciamo non abbiamo potuto usufruire di questo dei consigli che spesso e volentieri sono i giocatori insomma a dare ai propri colleghi e allora appunto ci siamo rivolti ai nostri colleghi e quindi agli altri giornalisti che come noi hanno ricevuto la copia del titolo con qualche settimana ad anticipo per poter approntare le recensioni che leggete sui siti di informazione italiana è stata è una chat molto divertente insomma qualcuno eccoci qualcuno sosteneva anche che andasse pubblicata probabilmente andrebbe epurata da qualche considerazione non propriamente un po' blasfema semmai però c'è stata molto utile con orgoglio ammetto di essere stato colui che per primo ha terminato il titolo persecutore moriremo ma va bene perché la morte è così importante in questo titolo che con la morte desideriamo concludere il nostro live tentiamo di schivare almeno il primo attacco non è detto che ci riusciamo vola il merdino eccoci abbiamo sbagliato ora non è che possiamo curarci adesso possiamo curarci ma non abbiamo elementi curativi sufficienti per poter sperare anche solo lontanamento no vabbè vabbè morte ingloriosa però ce la stavamo cavando bene sarebbe servita un'armatura un po' più performante qualche oggetto curativo in più nonché una spada che facesse danni degni di tale nome bene vi abbiamo fatto vedere due boss vi abbiamo fatto vedere il sistema di gioco la grafica che come potete vedere è molto simile a quella del vecchio episodio ci sono pochi miglioramenti però molta ottimizzazione a livello di cali di frame rate che sono ridottissimi le ambientazioni sono come sempre molto ampie mastodontiche sono molto ben realizzate scenicamente veramente hanno un impatto veramente interessante per essere quindi un titolo old gen direi che il lavoro svolto da Namco Bandai From Software è tutto sommato competente non aspettatevi grandi innovazioni ma un aggiustamento di fino diciamo a molti di quelli che sono gli elementi principali del gameplay il sistema legato alla morte quindi alla perdita progressiva dei punti vita il bilanciamento della difficoltà l'utilizzo delle magie che adesso consumano anche stamina insomma ci sono tanti piccoli aggiustamenti ma anche la possibilità di ottenere appunto grazie alle anime dei boss le armi leggendari in maniera molto più facile e diretta che rendono il titolo non così brutale il titolo è spietato ma non sadico quindi sempre stimolante noi ve lo consigliamo il voto come avete potuto vedere nelle nostre pagine è un 9 pieno ci è piaciuto molto l'abbiamo giocato finito in 50 ore ci apprestiamo a fare il new game plus queste erano le prime sequenze di gioco se volete vedere invece l'endgame c'è un altro video che trovate sempre su youtube o sulle pagine di avriali.it lasciateci un like se il video vi è piaciuto anzi un like per ogni morte quante ne abbiamo fatte? 4 non sono tantissime nei panni del mago siamo morti molte più volte se volete vedere qualcos'altro semplicemente chiedetecelo e cercheremo di produrci per farvi vedere qualcosa in più se avete dubbi domande curiosità un commento su youtube sul canale youtube a cui vi consigliamo di iscrivervi o sulle pagine di avriali è quello che è il metodo per restare sempre in contatto diretto con la redazione io vi ringrazio tantissimo per averci seguito ci vediamo al prossimo grazie a tutti